Settimana sociale a Barletta, la Chiesa non rinuncia a dare uno sguardo attento a quel che accade nel mondo circostante. Ecco, la Chiesa è posta nel mondo come Gesù ha voluto, è posta come lievito. Il lievito significa realtà che ha la capacità di trasformare e trasformare in una realtà buona. Pensiamo al lievito nella farina, trasforma la farina in pasta che poi diventa pane mangiabile. Questo lievito è costituito dalla dottrina sociale della Chiesa, per cui il richiamo che noi intendiamo dare a tutti, particolarmente ai laici che hanno la missione di agire nelle realtà temporali, è quello di non prescindere da avere idee luminose che poi diventano motivazioni forti che fanno prendere posizione nella realtà sociale, che nel nostro tempo si presenta molto fluida a partire dalla concezione dell'uomo. E' proprio da lì che dobbiamo saperci riappropriare dell'identità della persona e di tutto ciò che rende la persona responsabile e anche tutto ciò che stimola la persona al senso del dovere, perché pare che nella nostra società si rimanga fortemente individualisti, rinchiusi nelle proprie convinzioni, magari presuntuosi nel ritenersi risolutori di ogni cosa e invece la socialità esige proprio questa relazione, questo mettersi in rete. Ma in rete su quale è base? E quindi ecco, è necessario possedere la verità sull'uomo e la verità su ciò che l'uomo deve sapere perseguire per il suo bene. La Chiesa di Barletta si pone il problema della socialità, si pone il problema della società nella quale si vive e si opera. Abbiamo voluto indire questo tempo di riflessione, accompagnati anche dai vari relatori che ci saranno, per un semplice motivo, perché vogliamo aprirci come Chiesa al territorio, pensare insieme, riflettere insieme e soprattutto affrontare insieme quelle che sono le logiche più urgenti al momento, che ci vedono tutti impegnati in prima linea. La speranza va motivata però, perché è facile in un momento di crisi parlare di speranza, ma molte volte questa speranza è semplicemente un augurio, come dice la gente, beh speriamo che va bene. Il problema non è tanto solo augurarsi il bene, ci mancherebbe altro, ma capire le motivazioni che ci hanno portato a questo stato di crisi e vedere anche poi che tipo di impegno noi possiamo attuare per sperare con i piedi per terra, sperare fondati e questo vale sia per le singole persone, per i gruppi e soprattutto per il messaggio di speranza che la comunità cristiana può dare in un territorio, in una città.